Si oggi restituiamo a Palermo e ai palermitani e alla Sicilia un sito culturalmente assai importante e questo grazie alla società presieduta dal professore Puglisi che voglio ringraziare e ritorna alla fruizione dei cittadini palermitani, vorrei dire della Sicilia intera, un sito culturale che ha fatto la storia, un sito culturale che dal risorgimento ad oggi è un'annovera tra i suoi personaggi, persone di assoluta e di grande importanza. La patria è un concetto morale, non è un concetto geografico o soltanto storico. La patria è ciò che rappresenta non soltanto quello che è dentro i confini ma i valori morali e etici che hanno caratterizzato lo spirito dell'unità. Oggi la società di storia patria non è soltanto un museo, è un cimelio, è l'occasione per la memoria quotidiana e la memoria è ciò che aiuta a vivere il presente e costruisce il futuro.